Carissimi amici e amiche, bentornati con molta gioia ad una nuova puntata del mortale Catechismo di San Pio X che purtroppo per una serie di vicissitudini, l'ultima puntata addirittura è del primo febbraio scorso, quindi per due giorni siamo riusciti almeno a conservare la cadenza mensile, se dipendesse da me sarebbe molto più frequente, però come sempre ci sono diversi fronti di Catechesi aperti, quelli un po' annuali e questo avanti un po' così è un peccato, però accontentiamoci, io per quanto amo questa versione del Catechismo se dipendesse da me farei solo questo, però capisco bene che ci sono anche tanti altri argomenti che sono comunque in qualche modo importanti e che non possono essere trascurati. Bene, fatti questi piccoli preamboli, risituiamoci perché stiamo nella sezione dedicata a dieci comandamenti che il Catechismo di San Pio X affronta in forma estremamente concisa, quindi è molto molto breve, senza spendere troppe parole, però ogni parola in questo contesto capiamo che è presa una tonnellata, quindi comincia la volta scorsa anche oggi, cominceremo dal famigerato sesto comandamento, perché lì siamo arrivati, ci siamo fermati al quinto la volta scorsa, dovremo certamente andare a fare un pochino di focalizzazione, perché al sesto comandamento il Catechismo di San Pio X dedica soltanto due numeri, che ci proibisce il sesto comandamento, 201, e che ci ordina il sesto comandamento. Chiaro che nella sinteticità della enunciazione del Presidente, questo era il Catechismo utilizzato anche per, ordinariamente per trarre le formule per il Catechismo ai bambini, quindi anche questo fa comprendere un po' perché si è stata fatta la scelta di non essere troppo espliciti su questa materia, perché si tratta di materia scabrosa, fino a qualche tempo fa si poteva sperare che i bambini vivessero l'età dell'innocenza almeno fino a un po'. Oggi, amici cari, vi assicuro vorrei tanto poterlo non fare, vorrei tanto potermi illudere che così non fosse, ma purtroppo so che così non è e lo so per esperienza personale, quindi l'età dell'innocenza si è enormemente abbassata e sapete anche tutte quante le aggressioni che adesso vogliono fare e raccomando ai genitori di fare estrema attenzione, di vigilare i suoi figli dentro casa ma soprattutto a scuola, di quello che gli vanno a insegnare, perché specialmente su questa materia, dal momento che la corruzione dei costumi è il più grande, come dire, obiettivo massonico dichiarato ed esistente, perché corrotto i costumi è la fine. Io capisco bene, amici cari, che stiamo dinanzi al momento attuale ad una tontale mare di fango che altre volte ho detto, ammiro tutti quanti i genitori che hanno i ragazzi piccoli, gli sono vicino, prego per loro, gli offro tutta quanta la mia solidarietà, la mia vicinanza, se è dove possibile, a chi lo desidera, il supporto, l'aiuto, capisco che è una lotta in mani, perché si è completamente bombardati, quindi è quasi impossibile pararle tutte le bombe che arrivano da tutte le parti, però amici cari ci dobbiamo provare, dobbiamo provarci, dobbiamo provarci per il bene dei nostri ragazzi, il fango possibilmente bisogna cercare di farla arrivare addosso a loro, o il più tardi possibile o comunque il meno possibile, sapete che quando purtroppo non si può raggiungere l'ottimo, qualcuno ha detto che l'ottimo è il nemico del bene, bisogna cercare di fare quello che si può, c'è il proverbio, non si salvi chi può, qui stiamo in un tempo che veramente stiamo a si salvi chi può, sotto tutti i punti di vista, a tutti i livelli, in tutte le situazioni, anche di noi poveri preti, bisogna vedere qual è il bene concretamente possibile che si può realizzare, quali sono i mali che si possono evitare, altri che non ci si può fare niente, si devono o torto collo tollerare, pregando, riparare se possibile, mettendoci non solo la faccia ma anche l'impegno personale e segreto, ma più di quello purtroppo non si può fare, ci è toccato di campare amici cari in questi tempi, io li chiamo un po' balordi, parecchio, quindi non scoraggiamoci, però siamo anche consapevoli che pararli tutti i colpi che arrivano adesso è quasi impossibile, perché siamo circondati, siamo bombardati, mi ricordo quando ero ragazzino, mi venne un certo periodo la passione per il Kung Fu, a Latina era arrivato un allievo di Bruce Lee da Hong Kong, quindi ho fatto Kung Fu con un allievo di Bruce Lee, quindi attenti a chi mi si avvicina, adesso dimenticavo tutto e sono diventato un rottame umano, quindi vabbè, ma era entusiasmante, era bello, perché quelle tecniche di Kung Fu che erano, sapete che quest'arte i cinesi la usavano proprio come strumento di guerra, loro facevano la guerra così, evidentemente diversi secoli, anzi millenni fa, tu venivi addistrato a combattere uno contro dieci, uno contro venti, il fine era quello, non è semplicemente uno contro uno, perché ti attaccano venti persone che riesci a stenderle tutte e venti, questo è lo stile di Kung Fu che faceva Bruce Lee e che facevo anch'io, il Kung Fu Xiu Lan Tu si chiama così, Xiu Lan Tu in cinese, ecco, quindi dovremmo essere tutti quanti come Bruce Lee, quindi essere capaci di affrontare attacchi multipli su più fronti e stenderli tutti quanti, questo ce ne vuole, insomma, bisogna diventare, prima di essere in grado di fare questo, insomma, voglia fare allenamenti, quindi nel frattempo para i colpi, se non riesci a stenderli, para tutto quello possibile, se ti arriva qualche zampata te la tieni, cerca di rimanere in piedi e non farti stendere al tappeto, insomma, ecco, quindi perdonatemi un po' questa metafora un po' sportivo con riferimenti espliciti ad arti marziali, però siamo in guerra, amici cari, quindi una lotta non contro creature di sangue e di carne, come dice San Paolo, ma contro gli spiriti del male che adesso abitano questo mondo di tenebre, che hanno una caterva di demoni incarnati che li aiutano e quindi, amici cari, buon combattimento a tutti, non ci scoraggiamo, però siamo anche consapevoli della situazione. Detto questo, andiamo a vedere cosa ci proibisce il Sesto Comandamento. Se il Sesto Comandamento è non commettere atti impuri, ci proibisce ogni impurità, perciò le azioni, le parole, gli sguardi, i libri, le immagini, gli spettacoli immorali. Come vedete ci sono tutti, tranne i pensieri, perché i pensieri sono poi oggetto del nonno comandamento, non un desiderare. Ecco, perché come io sempre insegno ai ragazzini, ci sono quattro modi con cui si pecca di impurità, qui ne sono annunciati tre, cioè azioni, parole e occhi, quindi le azioni, la bocca e gli sguardi, ma ci sono anche i pensieri, solo che i pensieri sono oggetti di un comandamento distinto. Quindi la vigilanza è su quattro fronti. Ora, le azioni. qui non stiamo in un contesto da età dell'innocenza, quindi le azioni impure, vogliamo cominciare in ordine gerarchico, ecco, dalla meno grave, cioè dalla meno grave, insomma, ci sono varie classificazioni possibili, che è l'atto impuro solitario, quello più frequente, e poi ci sono tutte quante le forme di sessualità disordinata. Alcune sono sempre disordinate, anche dentro del matrimonio. Altre, non tantissime, diventano disordinate nel matrimonio. Prima del matrimonio, oltre che la fornicazione, che sono quindi i rapporti cosiddetti prematrimoniali, ossia la congiunzione carnale al di fuori del matrimonio, ci sono anche lo step inferiore, quindi quando ci si provoca, diciamo così, il piacere sessuale senza giungere al compimento dell'atto in senso stretto. È chiaro che tutte quelle azioni che provocano l'eccitazione, ecco, così siamo abbastanza, devono essere bandite se si vuole vivere la castità prematrimoniale, perché già provocare volontariamente l'eccitazione sessuale, anche se non arriva la consumazione dell'eccitazione, secondo la dottrina costante della Chiesa, pensate un po' come siamo ridotti oggi, è già quello peccato mortale. D'accordo? Dai tempi di Santa Caterina da Siena, che ne parla esplicitamente nel dialogo della Divina Providenza, dove Gesù parli, richiama così i toccamenti e baci, questo era il termine con cui venivano chiamati in letteratura classica, Sant'Alfonso, evidentemente Maria Delicuori, grande moralista e grande esperto, non ha nessun dubbio su queste materie. Poi c'è la fornicazione, evidentemente quello che sarebbe la fornicazione intervenendo il sacramento del matrimonio non è peccato, ma è lecito. E anche i baci dentro il matrimonio senza nessun limite, perché non c'è pericolo sotto questo punto di vista. Mentre quegli atti che sarebbero banditi fuori dal matrimonio, dentro il matrimonio, perdonatemi se sono così, si chiamano tecnicamente, così facciamo proprio un po' di scuola, gli atti preparatori, cioè sono leciti quando vengono compiuti in preparazione per creare le condizioni anche, diciamo così, materiali per il compimento degli atti coniugali. Poi c'è l'adulterio che è un peccato gravissimo, che riguarda sia chi è sposato quando tradisce il conno, sia anche chi non è sposato quando intrattiene una relazione sessuale con una persona che sia sposato, perché è adultero non soltanto chi è sposato e va con qualcun altro, ma anche anche qualcun altro che sia libero e che vada con una persona che è sposata. Poi c'è il tema della contraccezione, perché la Chiesa insegna che non è mai lecito volontariamente dissociare l'elemento unitivo da quello procreativo e tutte le forme di contraccezione, quelle antiche, ossia l'interruzione del rapporto, l'unica tra l'altro menzionata nel libro della Genesi, Genesi 38 e tutte quante le altre formule, le altre forme moderne, spirali, contraccezioni profilattici, sterilizzazione diretta, quindi chiusura delle tube, come si chiama, pillola anticoncezionale, peggio ancora la virgola del giorno dopo. Questi sono tutti quanti peccati gravi, tutti quanti, perché Revenera non dà turparvi da smaterie. E poi gli innominabili di oggi, cioè il peccato impuro chiamato dalla tradizione contro natura, cioè quando c'è il contatto tra persone dello stesso sesso. E sappiamo che nella tradizione della Chiesa il peccato impuro contro natura rientra insieme ad altri tre peccati, omicidio volontario, oppressione dei poveri e frode del giusto salario agli operai, cosiddetti peccati che gridano vendetta al cospetto di Dio per la loro gravità, motivati semplicemente dalla vicenda vetro-testamentaria nota a tutti di Sodoma e Gomorra. I peccati che si raggina l'ipote della Genesi, l'eco di essi è giunto fino a me e di Sodoma e Gomorra, se uno va in terra santa, non c'è rimasta più neanche un filo d'erba. Ecco, questi sono i principali, poi non parliamo certamente delle cose ancora più turpi che ci arriviamo da solo e che rappresentano proprio le... vorrei evitare di nominare, ci si può andare anche oltre questa robaccia qui, però penso che anche una coscienza ruzza e raffinata. Teniamo presente, nonostante quello che si dica adesso in giro anche da qualche parte, che da un punto di vista morale, non c'è bisogno di dirlo, insomma davanti a Dio, tutto quello che riguarda il gender o il transessualismo, anche se stanno cercando, e lo dico con dolore, non con dolore grande, di più, immenso, purtroppo non è che uno adesso vuole fare queste cose, adesso diventate di dominio pubblico, perché tutti sanno, qualunque cattolico sa cosa hanno messo nero su bianco al cosiddetto sinodo tedesco, ci sanno anche queste cose, capite? Cioè l'ideologia gender, per chi non lo sapesse, è quella che fa risalire l'identità sessuale non al dato biologico fenomenico, cioè agli attributi, al sesso genetico e al sesso fenotipico, ma alla libertà della persona, cioè è un bene disponibile, cioè io sono, sessualmente parlando, quello che mi sento, e attenzione non soltanto in maniera definitiva, no, in maniera fluida, quindi può cambiare da un momento all'altro, immaginate una cosa di questo genere, cioè capite? Sdoganata dentro un contesto di fede, capite no? Guardate gli esempi estremi, vado in seminario, sono un bel maschietto, divento prete, dopodiché un bel giorno mi metto in testa che no, io da oggi mi sento donna, e se tu, attenzione, sdogani questo, che tu dici che questa è una cosa che deve essere rispettata, la parola deve rispettare sempre, e quindi che facciamo? Cioè, spero che questi scenari siano fantascientifici, apocalittici, cioè che non debbano mai accadere cose di questo genere, speriamo, io cerco sempre di, non vorrei poi fare che di speranza via e di sperato muore, quindi prima di dover vedere cose di questo genere, speriamo che nel frattempo, lo so, insomma, possa succedere qualcosa, ci mettere mani il nostro Signore, cioè si abbia un minimo, come dire, di, perché io personalmente, come possa, non dico un vescovo, ma un prete pensare a una cosa di questo genere, va alla luce della dottrina cattolica, io non lo so, quindi non capisco. Va bene, passiamo alle parole, le parole ovviamente sono assoluti discorsi osceni, quindi i discorsi sessualmente espliciti manifestati con una affermazione volontaria, apprezzamenti, espressioni di desideri, adesso non posso su questo essere esplicito, quindi cercate per favore chi gli interessa, ma tanto chi gli interessa, come diceva Gesù, chi può capire capisca è chi vuol capire capisca. Chiaramente qui c'è anche il tema delle parolacce, perché le cosiddette parolacce, cioè la trivialità, la volgarità, la scurrilità, non è altro che l'impurità della bocca, perché se fate attenzione e ci pensate, non troppo, però tutte quante le espressioni volgari hanno sempre allusioni alla sfera erotica, sempre. Provate a pensare qualche parolaccia, una parolaccia è parolaccia perché allude a questa roba. Siccome i peccati impuri sono sempre peccati impuri, se te li metti sulle labbra, su questo io continuo a insistere perché c'è una leggerezza, a mio avviso, non indifferente nel mondo cattolico, perché siccome adesso il linguaggio scurrile è sdoganato dovunque e purtroppo a me risulta che ci siano anche ministri di Dio che non hanno nessuno scrupolo di esprimersi in questo modo, non soltanto in privato, che già sarebbe peccato mortale comunque, ma anche pubbliche davanti a tutti, qualcuno poi si potrebbe pensare che questa materia sia sdoganata. Quindi se lo fa il prete o addirittura se lo dice il prete che non c'è niente di male a dire le parolacce, che problema c'è? Il Nuovo Testamento non dice esattamente la stessa cosa, San Paolo non dice esattamente la stessa cosa riguardo alle turpitudini, riguardo alla volgarità e riguardo alla trivialità e il Catechismo non dice la stessa cosa. A noi poi sempre scegliere e decidere quale campana vogliamo ascoltare. Io non è che pretendo di essere, io cerco di, come dire, nella mia povertà, cerco di mettermi in ascolto di quello che il Signore dice e di riferirlo così come mi sembra di rettamente comprenderlo. Sapete come diceva San Giovanni Paolo II, se mi sbaglio qualcuno mi corrigerà, ecco, lo faccia nostro Signore quanto prima, evitandomi quindi di portare alla rovina le anime e lo faccia eventualmente chi avesse capito meglio e mi faccia comprendere che mi sto sbagliando sempre a disposizione. Poi ci sono gli sguardi, attenzione qui sugli sguardi, questo è un altro punto dove tornando all'esempio da cui siamo partiti, oggi siamo bombardati, bombardati, bombardati. E qui figliari miei cari, questo per quanto possa sembrare, questo vale per tutti, non soltanto per un consacrato o per un bambino. Anche un adulto, un adulto sposato, quindi che non ignora evidentemente l'esistenza della sfera sessuale e quindi anche che cosa significa trovarsi dinanzi, perdonatemi, ad una nudità. Lo sa perché lo vive e lo vive in maniera lecita. Però attenzione, gli occhi, cari mariti e moglie, sono stati fatti dal Signore per tuo marito e per tua moglie. E tra l'altro pure entro certi limiti, se uno vuole essere un po' preciso, perché certi organi cosiddetti erogeni devono essere sempre oggetto di una certa verecondia anche all'interno del matrimonio, perché possono essere oggetto di peccato di sguardo. Intanto per fare un esempio, il lato B, sia del maschietto che della femminuccia, non è stato concepito da nostro Signore per essere oggetto di desiderio, d'accordo? Ma è stato concepito per essere un aiuto, diciamo così, un supporto per quando ci mettiamo seduti, perché non ci si spacchi l'osso sacro, d'accordo? Basta. Più varia ed eventuale, insomma, da quelle parti c'è uno delle condotte di scarico e quindi anche per l'esecuzione di questa mortificante operazione Dio non ha fatto niente di inutile, evidentemente, no? Ecco, basta però. Non so se... Ecco, quindi... Però sull'argomento degli sguardi occorre avere il tasso di attenzione, adesso girano, io lo so, non si può vedere un film, non si può vedere una serie, se non ci sta o una scena di nudo o una scena di sesso esplicito a vari livelli, perché poi ci sono... L'esplicito va, come dire, dal tollerabile, diciamo così, ti lascio intendere, non ho delle scene che pur non essendo qualificati film o serie come hard, quindi come luci rosse, non ne vedo moltissima differenza. Allora, che si fa, amici cari? Si fa quello che ha fatto Gesù, se uno o qualcuno apre la passione di Gesù, secondo Maria Valtorta, vedrà quello che ha fatto Gesù quando Erode, dopo che l'ha, come dire, umiliato perché gli ha cominciato a dire, dai, fammi un miracolo davanti a me, Gesù, e dai, hai fatto tanti miracoli che fai, non lo farei un miracolo per il tuo re? E Gesù non gli ha rivolto neanche la parola, perché non si fa, figuriamo se si fa mettere a fare l'istrione di un corrotto. A un certo punto Erode se ne esce e dice, beh, ti ho trattato da Dio e non hai fatto il Dio, adesso ti tratto da uomo e quindi fa uscire un po' di impudiche signorine, vi ricordo benissimo la descrizione, nude, ma coperte di veli completamente trasparenti che cominciano a muoversi sinuosamente, a danzare, adesso non ricordo, davanti a Gesù per provocarlo. E Maria Valtorta nota che Gesù rimane immobile, non sede, fila proprio ovviamente, chiude gli occhi e le lascia fare senza battere ciglia. Nel senso che gli occhi si chiudono, lo sguardo si deve distogliere, amici cari. Non si può guardare una scena di nudo o di sesso esplicito volontariamente, quindi, capito, sto vedendo un film e mi ci imbatto, non è che posso andarmi a confessare, non lo sapevo, però se c'è il telecomando, adesso ci sono tutte e tante le cose, i DVD oppure gli streaming, manda avanti. Se stai al cinema, guarda per terra, inventate qualcosa. Ecco, non si può. Io non ho nessunissimo evidentemente timore ecco di, che me ne dico, non so che non al porta per le cose che sto dicendo, ma tutti quanti i santi, i grandi santi della storia della Chiesa hanno avuto sotto questo punto di vista un rigore non indifferente. Essere tacciato per bacchettone o cose di questo genere a me proprio non interessa assolutamente nulla. Le cose che dico, anche se so che si può colpire qualcuno, ma colpire certamente non per fargli del male, ma per aiutarlo, le dico sempre per il bene e per la salvezza delle anie, perché la Madonna Fatima, piaccia o non piaccia, ha detto che i peccati che portano più anima all'inferno sono i peccati della carne, del sexto, e che tutti i dannati sono macchiati di questo peccato e che alcuni sono all'inferno solo per questo peccato. Anche se molti altri ce ne hanno molti altri. Quindi la tendenza minimalistica sotto questo punto di vista che si respira in varie parti ahimè della nostra travagliata e umiliata Chiesa, anche se evidentemente incontra l'approvazione di molti che così si diventano autorizzati a fare quello che vogliono, è un chiaro segno, un triste segno, un altro triste segno dei tempi non buoni che stiamo dicendo, che stiamo vivendo. Provate ad andare a vedere com'era Padre Pio su questo argomento, o un Don Attilio Negrisolo su questo argomento, o un Don Dolindo Ruotolo, tanto per fare qualche nome, o un Santo Curato d'Arz, o un Santo Alfonso Maria di Ricuore, non è che queste cose mazzo la mattina, no, io ho cercato e ricercato, ho cercato e ricercato, ho cercato e ricercato, vediamo, sì. Non c'è possibilità di avere, come dire, mangiatoia bassa o livello di guardia basso su questa materia, non c'è. Quindi gli sguardi, poi i libri, i libri osceni, le riviste osceni ovviamente, le immagini e gli spettacoli decisamente immorali, non si possono vedere. Bisogna guardare altro, leggere altro. Ok? Quindi questo è un pochino una sintesi, ecco, vedete, il Catechismo è un esempio decimo, è numera, però qui stiamo facendo un incontro di Catechesi per adulti e quindi è bene essere un pochino dettagliati. Che ci ordina il Sesto Comandamento? Il Sesto Comandamento ci ordina, bellissimo, di essere santi nel corpo, portando il massimo rispetto alla propria e all'altrui persona, attenzione, è come opere di Dio e templi dove egli abita con la presenza e con la grazia. Santi nel corpo. Allora, qui si apre un'altra materia, adesso andiamo a vedere un attimo. Santi nel corpo, io tante volte ho parlato di queste cose, però per capire che significa, se vi chiedessi, che significa santo? Santo, sapete che la Chiesa ha parlato tre lingue, ha parlato l'ebraico nell'Antico Testamento, nel popolo dell'Antica Alleanza, ha parlato il greco all'inizio del Nuovo Testamento, la comunità giudaico-cristiana parlava un po' ebraico e un po' greco, anzi un po' pure aramaico, e poi ha parlato in latino, adesso purtroppo il latino pare che se lo so dimenticati tutti, ma al momento è ancora la lingua ufficiale della Chiesa, speriamo che tale rimanga, perché di questi tempi ormai, come dire, non v'è più certezza alcuna di nulla, però speriamo che il latino sia lasciato lingua ufficiale della Chiesa. Ora, in ebraico santo si dice kaddosh, e kaddosh significa separato, separato, cioè il popolo di Dio è santo perché è separato dai pagani, ci sono i pagani peccatori e poi ci sono quelli che sono stati separati, cioè i pagani peccatori sono pagani peccatori, il popolo di Dio è separato da loro, quindi non è e non si adegua ai costumi dei pagani peccatori. Io capisco che questo linguaggio oggi può urtare qualcuno, ecco, ma è quello che nel Nuovo Testamento si dice non conformatevi alla mentalità di questo mondo, ma trasformatevi. In greco santo si dice agios, si conosce il greco, sa quell'a con cui si comincia il termine agios, si chiama in greco alfa privativa, cioè vuol dire senza, è come in italiano ateo, ateo significa, dal greco a theos, senza Dio, ecco perché si dice ateo, alfa privativo, che in italiano si traslittra con la A, theos che significa Dio, quindi A significa senza, geos in greco significa terra, no? il geologo, la geografia, che significa, viene dal greco, quindi significa senza terra, senza terra, cioè celeste, se uno non è vestito di terra è vestito di cielo, no? o, e in latino c'è il sanctus, sanctus che ha un'etimologia discussa in latino, no? che comunque in qualche modo fa comprendere, nelle due variabili possibili, un qualche cosa che si è legato a Dio. quindi staccato da ciò che Dio non è, è legato a Dio. Ora, cosa vuol dire essere santi nel corpo? Traduciamo. Santi nel corpo vuol dire essere separati. Allora, noi prendiamo gli esemplari mondani. mondani. Com'è il corpo degli esemplari mondani? Per esempio, i mondani, il corpo, lo mostrano, lo fanno vedere, in pubblico, senza nessun problema, oggi senza il minimo pudore. non soltanto nelle spiagge e anche nelle spiagge non può essere messo evidentemente alla pubblica esposizione, ma anche fuori delle spiagge, addirittura anche dentro i luoghi sacri, specialmente adesso che comincerà a fare un pochino tardi, un pochino caldo, scusate, a partire da tra poco ricominceremo le solite guerre puniche estive perché vi assicuro che poi ogni anno l'asticella si abbasso un altro po'. Per cui se ne vedono, a Milano dicono di ogni, senza nessun problema. Capite il processo, no? Una volta era solo in spiaggia, poi siamo passati alla città e adesso anche alla chiesa. Penso che non sia un mistero. Pensate, gli abiti da sposa, bianchi, allora, che hanno il corpetto che copre metà del seno, scusatemi se sono così esplicito, e completamente sbracciati e scollacciati, davanti e di dietro, bianchi. Nessuno dice niente su queste cose qui, nessuno. Tutto normale. io dico che una roba del genere, quella sposina, poi quando morirà tra cent'anni, io penso che si farà un ripasso di quello che è successo in quel giorno di matrimoni. io mi sono sempre chiesto, la pongo come interrogativa, non come affermativa, ma nostro Signore, vedendo una cosa del genere, cioè tu stai in chiesa conciato in quel modo, a celebrare un sacramento e a ricevere un altro, perché tu ci avvicini al matrimonio, ma stai anche a messe, farai forse anche la comunione. tutto normale, tutto tranquillo, o tu stai facendo un matrimonio sacrilego. Sapete quando è un sacramento sacrilego, quando uno lo celebra, non sta andando in grazia. Cioè, scusate, io conosco sacerdoti che hanno dovuto celebrare perché non potevano al momento, purtroppo, a meno di andare a far succedere il finimondo, farci niente, matrimoni guardando verso l'alto e cercando di ricordare a memoria le parole del rituale, perché se abbassavano lo loro sguardo, la rappresentazione era improponibile. Tutto normale? Allora, santi nel corpo, portando il massimo rispetto alla propria, all'altrui persona. la santità nei costumi è una forma di rispetto anzitutto verso te stessa. Una donna che si veste in maniera provocante, che cosa sta facendo? Sta mancando di rispetto verso se stessa. Perché sta dicendo a tutti quanti, io non ho altro da offrirti che un po' di cose che stuzzichino la tua libidine. Ti sembra una forma di rispetto verso te stessa presentarti in questo modo? Una donna ha ben altro da offrire al prossimo, no? Ha un'intelligenza, ha una personalità, ha un'anima, ha dei doni, ha delle risorse, no? O no? Ma se tu ti conci in un certo modo, capite che il nostro corpo è la prima cosa che le persone vedono. E nessuno può ignorare che il corpo di una donna è fatto in un certo modo, non è come quello dell'uomo. Se ti presenti in un certo modo, tu stai dicendo eccomi. Ed è una forma di mancanza di rispetto anzitutto nei confronti della tua persona. questo bisogna cominciare a impararlo ai ragazzini fin da quando sono piccoli. Con tanti piccoli atteggiamenti. Per esempio, nudi dentro casa, scusatemi, non si va. I bambini non si mandano in quello. I bambini sono innocenti, che problema c'è? Certo che sono innocenti, loro non capiscono questa cosa qui, ma tu, quando ancora sono innocenti, devi cominciare a insegnargli da prima il pudore e la molestia. Da subito. Da prima che perderanno l'innocenza, se vuoi educarli. La propria e l'altrui persona. Cioè, se una persona entra in canonica, da me, una donna, vestita mezza nuda, ma mi sta mancando di rispetto. Ma come ti permetti? di entrare in quel modo a casa mia? Mi sono consacrato. Ma non ci arrivi? Quindi, non stai una volta, cioè, e l'altrui persona, soprattutto con la P maiuscola, ma come ti permetti di entrare in questo modo in chiesa, alla presenza di Dio? Risposte che da, eh, ma mica Dio guarda queste cose, eh, eh padre, e lei è troppo rigido. Da queste quante cose, questo è troppo rigido quando mi va bene, perché quando va peggio non vi dico quello che esce fuori. Urli, parolacce, minacce, e robe del genere. rispetto alla propria e d'altrui persona, opere di Dio, tu sei un'opera di Dio, creata per il paradiso, sei tempio dello Spirito Santo, lo Spirito Santo, non è, la Sapienza, si legge nel libro della Sapienza, non abita in un corpo schiavo del peccato, non abita in un corpo impuro, non c'è niente che tiene lontano da noi lo Spirito Santo, quanto l'impurità e l'immodestia. Parlare di santità nel corpo significa parlare di quella virtù, di quelle due virtù anzi, che si chiamano il pudore. Pudore significa celare il proprio corpo da occhi indiscreti. E la modestia riguarda il modo con cui tu, come dire, manifesti la tua corporità, che deve essere sempre composta, fine, raffinata, educata, è il modo in cui ti vesti. Le donne, figlioli miei cari, devono reimparare a vestirsi da donna, contente di farlo, io lo dico proprio con la massima semplicità possibile, ma anche con la massima chiarezza possibile. il vestirsi da donna è motivato da tante cose. Primo, una immagine che tu dai di femminilità, santa e sana e santa. E quanto più vanno moltiplicandosi, anche adesso pare che ci sia un revival di femminismi disordinati, quanto più le donne cristiane e cattoliche dovrebbero essere attenti a certe cose. Ma vestire in maniera femminile modesta, ovviamente, perché non è già ah, mi sono messo la minigonna, ho la gonna, per dire, no? Credo che non serva puntualizzare, no? Ma è una forma di rispetto perché il vestire in maniera femminile modesta impedisce una forma di rispetto verso se stessi ma mette chiunque ti guardi nell'impossibilità di commettere un peccato perché il vestire femminile e modesto come dire mantiene nel riservo quelle particolari caratteristiche del corpo femminile e che possono indurre chi guarda una donna a qualche pensiero se tutto va bene questo è importantissimo non parliamo poi di altre cose adesso considerate ancora più estreme cadute in disuso e questo è il tempo che ho detto che stiamo in piena guerra d'accordo? quindi in guerra ci vuole qualcuno che abbia qualche virtù eroica qualche spirito eroico d'accordo amici amiche quindi le cose che un tempo erano normali cioè a me raccontano vi dico che cos'era un tempo normale d'accordo? date a vedere come andavano per esempio al mare uomini e donne negli anni trenta e negli anni quaranta oggi uno ride ma al mare per evitare che cioè occorrerebbe recuperare non poco di quello stile in chiesa a me mi raccontano le persone anziane che ora stanno muorendo tutte dice vedi Leonardo a destra c'erano gli uomini e a sinistra c'erano le donne le donne nessuna entrava in chiesa a capo scoperto perché anche se quasi nessuno lo sa non è mai stata abrogata quella legge ecclesiastica scritta dal successore di San Pietro dal primo successore di San Pietro che è San Lino io lo conosco bene perché si festeggia il 23 settembre San Lino che è il giorno in cui sono stato battezzato quindi lo conosco bene perché è il santo del mio giorno di battesimo che non ha fatto altro che mettere nero su bianco quello che scrive San Paolo nella prima lettera ai Corinzi quindi non esisteva che una donna entrasse in chiesa tutte quante vestire da donne tutte quante con il capo velato ah tu oggi vai a dire queste cose talebano che ne so adesso dobbiamo dicere ci mettiamo il burca facciamo questo facciamo quell'altro cioè vuoi che c'è stato un processo di graduale trasformazione per cui se oggi una donna si veste da donna c'è il capo velato poi va a farsi la comunione e si inginocchia qualcuno potrebbe chiamare la neuro oppure pensare che questa tutte quante le rotelle dritte non ce l'ha ma attenzione fino a 70 anni fa questa era la norma cioè era normale nessuno si sognava di fare altro rispetto a questo capite le progressive finestre di Overton dove ci hanno portato e non è finita ancora non è finita come possiamo ampiamente vedere perché questi non si fermano questi qui transessualismi cose adozioni genitore 1 genitore 2 adozioni uteri in affitto adozioni delle coppie gay che già ci stanno gender transessualismo andate e ritorno poi andate e poi ritorno non si fermano questi qui cioè non c'è fine a questa storia capite perché padre Pio diventava una belva una volta padre Pio una volta padre Pio adesso racconto un po' di aneddoli di padre Pio così stasera li proprio raccontiamo tutti quanti così facciamo proprio lo show ok ma andatele a leggere io ho scritto per tanti anni sul settimanale di padre Pio e quindi mi arrivavano le copie e mi leggevo una volta andarono a trovarla una classe di signorine che avevano la gonna fino al ginocchio padre Pio è passato di lungo e non le ha neanche salutate allora la sonata dice padre però lei è un po' troppo esagerato insomma la gonna è al ginocchio non è troppo corta adesso è al ginocchio e non ci doveva arrivare al ginocchio perché non si fermerà al ginocchio gli si può dare torto? eh no ma lui era esagerato e talebano se qualcuno andava davanti a lui a braccia scoperte dice le braccia scoperte ma pure le braccia ti segherei le braccia oh l'ho letto con gli occhi miei queste cose qui telefonate alla redazione del settimanale di padre Pio dite è vero che padre Pio ha detto questa cosa mi può mandare il numero dove c'è virgolettato il racconto di questa di questo aneddoto ti segherei le braccia perché soffriresti di meno in purgatorio le braccia le carni nude bruceranno d'estate una sua figlia la sua figlia prediletta spirituale che era Clionice Morcaldi si crepava di caldo perché sapete San Giovanni Rotondo è meglio non andarci ad agosto perché è una penitenza non indifferente si moriva di caldo e le chiese una volta il permesso posso andare dalla mia amica qui vicino mi tolgo le calze ma solo per andare dalla mia amica non ti permette la mia risposta per andare dall'amica capite la finestra di Overton scusate ma capite anche la cosa che oggi non si capisce siamo in quaresima è quando si leggono queste cose cioè uno rimane io sono stato il primo a rimanerci senza parole dico ma stiamo scherzando dico ma sembrano delle esagerazioni fuori del comune roba da matti alla nostra mentalità ma ci vogliamo guardare un attimo in giro perché i santi erano così rigidi e lo erano perché i santi erano profondi conoscitori del cuore dell'uomo perché se a un uomo purtroppo nella condizione in cui ci troviamo qui su questa terra segnati dal peccato originale di viatori se tu gli dai tanto così ti prendi il braccio vorrei un po' di esempi guardate ma se mi tolgo le calze che problema ci sarà ma niente tanto c'è la gonna lunga fino ai piedi e se mi metto non le maniche lunghe almeno d'estate ma all'avambraccio che c'è problema ma no e se la gonna mi arriva al ginocchio anziché fino ai piedi ma no però capite si comincia così nessuno poteva immaginare che il punto di arrivo era quello dove ci troviamo ma dove ci troviamo la gente si lamenta che i preti vanno vestiti perdonatemi dai draulici come si è arrivato a questo sapete come ve lo dico io come si è arrivato negli anni 50 la piaggio si inventò le lambrette guardate questa è storia questa qui non lo so e qualche preto ha cominciato a comprasse la lambretta sapete che le lambrette di quei tempi con la tonica che ti svolazza c'è il pedicolo che va dentro le turbine allora cominciano a piangere che dice ma quando andiamo sulla lambretta non ci potremmo togliere sta cosa solo per andare sulla lambretta poi quando torniamo in parrocchia rimettiamo subito la destra italiana per carità è partita così la lambretta poi beh si era tolto per la lambretta dopo un po' di tempo esce se devo fare un viaggio in treno sta cosa si scomoda in treno se devo andare al bagno dentro il treno cioè solo per il viaggio e due dopodiché vabbè però in vacanza me la tolgo le esagerazioni un tempo la talare non te la potevi togliere nemmeno per giocare nemmeno per fare sport esagerare nemmeno per nemmeno per fare sport i santi la portavano pure di notte la veste talare pure di notte esagerazioni esagerazioni e adesso in borghese che non è consentito oppure il clergyman il diavolo durante qualche esorcismo ha detto che il clergyman ha paragonato quelli vestiti in clergyman ai netturbini il clergyman è l'abito ecclesiastico comunque è consentito dall'attuale legge della chiesa quindi è assimilato all'abito ecclesiastico ma non è la veste talare è un abito ecclesiastico differente dalla veste talare perché il significato del clergyman è differente adesso non approfondisco questa cosa qui come ci si è arrivati guarda dalla lambretta vogliamo parlare della famosa comunione ormai se ne parla dovunque come si è arrivati ad oggi ad oggi che stiamo a un passo post pandemia siamo a un passo dal dire e non è scuso che sia detto che la comunione si prende solo in mano cose che erano inimmaginabili ma anche qui come ci siamo arrivati fino a questo c'è scritto degli articoli Don Federico Bortoli ci ha scritto la sua tesi dottorale la comunione in mano è la legalizzazione di un abuso perché negli anni a partire dagli anni 60 quindi gli anni del concilio e delle cose in alcune posti del nord Europa sapete che i teologi della nuova teologia erano ritradotti i padri della chiesa quindi era uscita la cosa di San Ciro di Gerusalemme che tu metti le mani una sopra l'altro con il trono che metti davanti e quindi nella chiesa primitiva si prendeva la comunione in mano e quindi dobbiamo farlo pure noi la cosa arriva a Roma e Roma dice fermi tutti non se ne fa niente che cosa però questi se ne infischiano e nonostante questo continuano a farlo dicono che facciamo dobbiamo regolamentare il fenomeno non lo possiamo fermare perché questi ormai sono partiti lo regolamentiamo allora diciamo che solo in piccolissime comunità in piccolissime celebrazioni sotto la guida attenta ad un sacerdote con persone che siano formate in via del tutto eccezionale non come regola ma qualche volta si può fare finito da qui via dico tutto questo perché prima di sparare a zero sui rigidi le cose a destra e a sinistra un tempo erano invece adesso stiamoci col cervello stiamoci a me ha dato sempre fastidio atteggiamento tipicamente modernista che il modernismo è la maledizione assoluta proprio cioè ma come ti permetti tu di metterti sotto i piedi gli insegnamenti dei santi e di tracciarli ma quelli erano erano esagerati erano cose di altri tempi ma tu chi sei per fare una cosa del genere ma come ti permetti io non ero così io lo confesso tranquillamente io l'ho da l'altro e ho cominciato a portarla da un certo periodo in poi quando ho capito non ero come si dice come appaio così rigido lo sono diventato come leggendo e documentandomi e soffrendo dicendo ma questi erano una banda di stupidi che è una bestemmia perché non puoi dire stupido a un santo o siamo diventati stupidi noi e che dice la legge di Dio a chi dà ragione la legge di Dio al nostro lassismo o a loro chiamiamolo così tra virgolette che così non è rigorismo non è rigorismo essere giustamente severi pensiamoci un po' per cortesia tempi dove egli abita con la presenza con la grazia conclude il catismo un esempio tu sei tempio dello spirito santo tutto il monnezzaio che adesso ci circonda non è roba per noi e noi dobbiamo dare esempi di purezza perfetta di modestia perfetta coraggio noi non dobbiamo temere il mondo e di essere presi in giro non dobbiamo temere il disprezzo degli uomini che ci tacciano come a talebani non fatevi tante cose chiacchierino pure noi dobbiamo temere Dio e il suo giudizio che su queste cose fu è e sempre sarà severo chi dice altro e se ascoltate altro state attenti perché si mette a repentaglio la salvezza eterna dell'anima perché su queste materie non si scherza e non si è leggeri e non si sia leggeri bene amici ci aggiorniamo al prossimo mese speriamo di non trascurare l'immortale catechismo di San Pio X con tutta la bellezza che conserva e che trasmette che Dio vi benedica e che la Santa Vergine sempre e tutti vi protegga una santa notte a chi ha ascoltato la diretta alla prossima Ave Maria di San Pio X